Noi vogliamo divertire come loro. Sono molto contento dei ragazzi e sono rimasto molto contento anche dall'invito del mister e del presidente di formare questa squadra, di crearla. Ecco, sono rimasto entusiasta, l'ho ringraziato per il pensiero e ho collaborato fin quando ho potuto collaborare. Anche se le maggiori responsabilità e i maggiori problemi li stanno vivendo loro come presidente e come mister. Su questo episodio? Su questo episodio io ero presente alla prima partita che il mister diceva a Camerota. E lì a dire la verità ci sono rimasto molto male perché uno dei miei maggiori collaboratori qua, Ibrahim, ha fatto un gollo di testa, è stato uno spettacolo. L'ho visto che ero a pochi metri, c'erano due ragazzi più vicino alla porta, quindi non era fuorigioco ed è stato annullato per fuorigioco. E lì, a dire la verità, ci sono rimasto male. Forse non lo dovevo neanche fare, ma qualche parola da lontano all'arbitro l'ho detta nel senso buono. Cioè ho detto, vedi che non era fuorigioco, guarda bene, parla col guardaline. E quindi ho visto già qualcosa che non andava. E pertanto anche per motivi miei di non prendere freddo il periodo invernale e così via, ho lasciato andare, ho assistito a tre, quattro partite, ma in tutte le partite ho notato delle differenze, delle cose che mi hanno dato un po' fastidio. Anche se inviterei i ragazzi di non mollare, vi vorrei pregare di non mollare e di continuare a giocare. Una cosa è il fatto di ritirare la squadra per una partita, posso anche capire e ti giustifico. Però abbandonare questo spettacolo che io vedo quando giocano questi ragazzi e l'entusiasmo che esternano durante la partita. Quindi non voglio che finisca, possibilmente. Io voglio continuarla, però io sono 40 anni che ho fatto il pallone di Ascea. Una cosa di ieri non l'ho vista mai, quello di ieri non l'ho visto mai. Un albertaggio così pessimo, pessimo. È già la seconda volta che mi alberta. Mi ha alberrato a Casaloro, a Camerota, mi ha alberrato ieri a Ascea. Ha fatto la stessa cosa, perché a Camerota mi hanno due golle fatte buone, due regolari. E ieri ha inventato un rigore inesistente, alla quale il giocatore mio protestava, dice guarda che è fuori e lui mi la munisce e ci dà il rigore. Il rigore, battono il rigore, il mio portiere para il rigore e lui no, ha da ripetere. Allora a questo punto ho detto Enzo, vicino al Presidente, andiamo, ritiriamo, ritiriamo. E ho ritirato la squadra. E ora? E ora vediamo che cosa gli dicono. Parlo pure alla Lega, Federazione e vediamo che cosa viene fuori.